Ciao a tutti, mi chiamo Luca, ho 41 anni, sono nato e vivo da sempre in provincia di Parma. Sono figlio di contadini che da generazione lavorano nella terra e da diversi anni ho deciso di diminuire le ore dedicate al mio lavoro principale. Io sono impiegato in un'azienda metalmeccanica qui in provincia di Parma per dedicare parte del mio tempo libero alla coltivazione dell'orto e al mantenimento e la cura di una vigna di proprietà che ho ricevuto in eredità da mio padre che aveva messo lui a dimora le viti circa 30 anni fa e sto cercando anno dopo anno di potarla e recuperarla meglio che posso e ho inserito in questa vigna un frutteto. Pian piano sono andato a mettere la dimora dei porti innesti che avevo seminato io da seme e pian piano li ho innestati con varietà che ho trovato nella zona principalmente varietà antiche per avere un po' di food diciamo per autoconsumo. Oltre a questo io e la mia ragazza Veronica, la mia compagna, abbiamo creato e messo a dimora alcuni filari di piccoli frutte more, lamponi, riba, subaspina e mertilli siberiane e poi abbiamo circa 2.500 metri di orto che coltiviamo tutto per autoconsumo cerchiamo di produrci direttamente le piantine noi partendo dai semi che scambiamo con altri nostri amici o acquistiamo noi semi non ibridi che andiamo a riprodurre e andiamo a mettere a dimora le piantie direttamente nell'orto. La mia scelta di lavorare meno in ufficio è dettata da cercare di avere uno stile di vita migliore che mi renda più felice e poi per il mio amore nel lavorare la terra e poi mi piace dedicare a miei progetti che possono migliorare la mia capacità di coltivare e mi prendermi cura delle piante da frutto quindi informarmi, leggere e pian pianino imparare imparare da chi è più esperto di me anche documentandomi su youtube eccetera e in questo video vorrei parlarvi di un progetto di cui faccio parte che è nato a marzo di quest'anno 2023 e io e alcuni ragazzi abbiamo creato questo progetto che si chiama progetto biodiversità condivisa che si basa principalmente su un gruppo telegram e questo progetto ha lo scopo fondante di condividere il sapere agricolo e le tecniche di propagazione di piante da frutto semi di orticole, bulbi, viti, fichi, qualsiasi cosa che si riesce a riprodurre e la distribuzione tra i partecipanti attivi del progetto praticamente ognuno cerca di riprodurre quello che riesce e poi si distribuisce tra i partecipanti quindi si distribuiranno semi di orticole piantine ricavate da tallee bulbi, marzi dai nesti e tutto quello che riusciamo a moltiplicare tutto quello che riusciamo a condividere con gli altri un altro dei principi fondanti è quello di dedicare un gruppo di persone che abbiano voglia di condividere la loro esperienza agricola e le loro sperimentazioni in orto, in frutteto in modo da poter crescere tutti in questi progetti insieme in modo che tutti abbiamo da imparare l'uno dagli altri e questo è un po' diciamo uno degli scopi principali di questo progetto che poi probabilmente andremo a creare dei sottoprogetti gestiti un po' da un po' insieme uno dei progetti potrebbe essere la moltiplicazione di porti innesti la moltiplicazione di particolari semi di orticole specialmente per quanto riguarda le verdure che si fa fatica a riprodurre da soli tipo i cavoli che come sapete si bridano l'uno con l'altro quindi non si riesce tutti gli anni a coltivare a autoprodursi i semi dei cavoli perché chiaramente se uno ha 5 o 6 tipologie di cavoli deve ogni anno farne una tipologia perché altrimenti si fiorendo tutti insieme è difficile da gestire la fioritura perché tenderebbero a ibridarsi io ho fatto l'esempio dei cavoli ma anche le rape e le barbabietole hanno un po' questo problema e poi volevamo creare dei progetti di condivisione come dicevo prima di masse in modo che chi ha determinate varietà li può condividere con altri e anche chi ha piccoli frutti more lamponi ribes li può moltiplicare e condividere con gli altri e come dicevo prima il progetto si basa su un canale telegram che è stato creato positamente per chi è interessato troverà il link sotto questo video abbiamo scelto telegram perché è una piattaforma diciamo all'avanguardia per la gestione dei gruppi attualmente e poi principalmente perché si possono dividere si può dividere il gruppo in topic con i vari argomenti per chi non è pratico di telegram può informarsi il gruppo è diviso in sottogruppi diciamo e ogni sottogruppo ha un titolo in modo che così ognuno può seguire solo quello che gli interessa e non ci sono una valanga di messaggi uno in fila all'altro e tutti gli argomenti vengono divisi in base al topic chi posta un messaggio lo può postare in un determinato topic e le altre persone rispondono lì e quindi la discussione è più lineare e più compressibile per tutti e non si perde tempo a seguire tutto a seguire tutti i messaggi che spesso capita anche con le chat di whatsapp che si continua a scrivere e dopo si perde un po' il filo del discorso nel caso in futuro emergesse una piattaforma diciamo tra virgolette migliore di telegram per gestire i gruppi ci trasferiremo senza problemi abbiamo scelto giusto quella perché adesso ci consente di avere un utilizzo tra virgolette più semplice rispetto a whatsapp e poi si può si può postare direttamente dai computer con l'apposita app e consente di fare delle delle chat delle chat video di gruppo che noi stiamo utilizzando adesso perché il progetto come dicevo prima è partito a marzo e ogni 15-20 giorni ci troviamo una sera e facciamo due chiacchiere parliamo un po' d'orto di permacultura di agroforestazione di innesti di di qualsiasi cosa che ci passa per la testa via e telegram consente di fare questo direttamente nel gruppo e anche in 30 o in 40 e la durata è limitata quindi diciamo è molto comodo un'altra cosa che ci tenevo sottolineare del gruppo è che il progetto è stato creato senza fini commerciali e né di lucro quindi chiunque può partecipare non saranno richieste donazioni non saranno richieste tesseramenti non saranno proposti corsi e pagamento o qualsiasi altra pratica che richiede l'esborso di denaro da parte dei partecipanti il gruppo è nato per non essere non avere uno scopo commerciale non si venderà mai nulla e cercheremo di far passare il denaro in secondo piano anche nei vari progetti dove ci sarà da spedire del materiale che possono essere semi eccetera abbiamo pensato di utilizzare un metodo un metodo molto semplice che noi abbiamo chiamato hub di biodiversità che non è nient'altro che raggruppare le spedizioni le spedizioni nel gruppo ci sono le slide e viene spiegato bene diciamo che c'è qualcuno del gruppo che verrà scelto casualmente e che di volta in volta cambierà che praticamente si occupa di gestire le spedizioni cosa vuol dire vuol dire che tutti allora ognuno fa tanti pacchettini in base alle persone a cui deve spedire per dire se io devo spedire a 5 persone faccio 5 piccoli pacchettini con il nome di ognuno delle persone a cui devo spedire poi faccio un pacco a mie spese che spedisco a questa persona che fa da diciamo da concentratore delle spedizioni tutti i pacchi arrivano a lui poi lui non fa nient'altro che prendere i singoli pacchi che avevo fatto io all'interno del mio pacco grande li divide per le varie le varie destinazioni per i vari utenti e poi li rimetti in un cartone più grande diviso per ogni persona e poi la persona che deve ricevere il pacco manda il corriere a casa sua a ritirare quindi non c'è un esborso cioè non circola denaro tra i partecipanti del gruppo perché ognuno si paga le sue spedizioni e con due spedizioni riusciamo a spedire materiale a chiunque tutti pagano due spedizioni tranne chi fa il lab centrale che lui non paga nulla perché gli arrivano tutti i pacchi e anche i suoi e quello che deve spedire agli altri lui fa il pacchettino e l'altra persona a cui deve spedire farà il ritiro questo è un metodo che abbiamo pensato insieme per abbattere il costo delle spedizioni che è un po' quello che fa non so per chi di voi acquista l'ali express e l'ali express mette insieme tutte le spedizioni dei diversi dei diversi tra virgolette fornitori che fanno parte del portale e arriva un solo pacco a casa resta il fatto che chiunque vuole spedire semi materiali ad un'altra persona del gruppo lo può fare liberamente e ci possono essere gli scambi diretti quello che vi ho spiegato prima è solo un metodo semplice per cercare di abbattere i costi di spedizione perché altrimenti ci sarebbe da spendere una follia per spedire non so se io devo spedire biodiversità a dieci persone devo fare dieci spedizioni invece così con due spedizioni una da me all'hub e l'altra dall'hub alle varie destinazioni riusciamo a fare tutto e abbiamo creato un canale di youtube solo a scopo divulgativo dove troverete video che vengono condivisi sul gruppo video che vengono creati da chi fa parte del gruppo più che altro per quanto riguarda orto innesti potature sale di germinazione varie tecniche corticole un po' di tutti e lì li metteremo lì per comodità del gruppo per non appesantire troppo il gruppo e per avere diciamo uno storico e il gruppo non verrà monetizzato perché è stato creato esclusivamente per dare la possibilità a tutti di condividere quello quello che sanno quello che vogliono sono video non professionali quindi vengono fatti col cellulare l'audio non sarà il massimo però sono a noi piace diciamo questo modo di utilizzare youtube e i commenti non verranno moderati quindi chiunque potrà dire la sua nei video esprime la propria opinione senza censura perché uno dei problemi che c'è su youtube è che diciamo tutti ormai moderano i commenti ci sono solo commenti positivi sotto i video e nessun negativo e questa è una cosa che volevamo cercare di limitare un'altra cosa che ci tenevo a far presente che si vuole iscrivere al gruppo è che questo gruppo non è un mercato del seme un bivaio quindi chi si iscrive chi entra deve dare il proprio contributo in termini di tempo scambio di esperienze e bisogna essere attivi nel gruppo non è che uno entra non scrive mai niente non partecipa non moltiplica niente non aiuta il gruppo e poi quando c'è da scambiare il seme cioè ha diciamo tra virgolette delle pretese per quanto riguarda il seme o tale eccetera è un gruppo dove chi entra dà il proprio contributo per gli altri dedica tempo dedica lavoro per aiutare le altre persone che fanno parte del gruppo questa è una cosa che ci tenevo molto a sottolineare bene se qualcuno vuole entrare non ha semi da scambiare non ha piante da frutta non ha nulla però ha voglia di fare ha un piccolo pezzettino d'orto è il benvenuto l'importante è che sia una persona che abbia voglia di fare voglia di impegnarsi e di imparare e in modo che così arricchisce tutti visto che saranno mandati semi saranno mandati piantine non è un problema l'importante è che lui dia la propria disponibilità per aiutarli gli altri e per e per portare avanti il progetto questo è una cosa che ci tenevo a dire perché in definitiva il progetto ha come obiettivo quello di fondere la biodiversità e creare un gruppo di persone che lavorano insieme per un fine comune che non sia monetario dove nel gruppo si crea un rapporto di fiducia dove ognuno si può fidare delle altre persone che fanno parte del gruppo tutto verrà gestito delocalizzamente cioè in modo delocalizzato non ci sarà nessuna entità centrale che gestisce tutto in modo che il gruppo si autogestisca tra virgolette e non dipenda da nessuno e l'altro scopo è di condividere le proprie esperienze giorno dopo giorno in modo da far crescere tutti e da dare un valore aggiunto a tutte le persone che fanno parte del gruppo prima di chiudere ci tenevo a ringraziare Alessandro Diego e Francesca del progetto Sovranità Sementiera da cui molti di noi hanno fatto parte io compreso e molti di noi fanno tuttora parte per tutto prima di tutto per averci fatto conoscere tra di noi e per tutto sapere che ci hanno donato e per tutti i semi che hanno mandato e condiviso con noi semi bulbi di cipolle ed è stata una cosa molto positiva il loro progetto è molto valido e consiglio a tutti di di cercare su youtube il progetto Sovranità Sementiera e di guardare qualche video un ringraziamento particolare va anche Maurizio che ha condiviso con noi parte della sua emessa raccorta di orticole in particolare di pomodori e il progetto della cella di germinazione che io stesso ho seguito e molti di noi utilizzano attualmente e ci ha dato molte soddisfazioni e ci ha consentito di anticipare le semine all'inizio primavera in modo facile e funzionale grazie Maurizio infine ringrazio tutte le persone che fanno parte del progetto e le persone che entreranno in futuro per dare il loro contributo come vi dicevo prima nella descrizione del video trovate il link per poter accedere al gruppo vi aspetto e ci vediamo nel gruppo